Continuano le polemiche sulla vertenza Coppa Ragusa, a rischio 83 posti di lavoro, la CGL dura nei confronti dell'azienda, per il PD la politica non deve sostituirsi ai sindacati. Sulla situazione economica del comune di Modica torna a parlare il presidente del consiglio, Garaffa, che ribadisce l'importanza di non abbassare la guardia di fronte ad una situazione così delicata. E' stato fissato per giovedì prossimo a Scicli un confronto pubblico sulle sorti dell'ospedale di Scicli. All'iniziativa promossa dalla maggioranza parteciperanno anche i deputati regionali. A Vittoria dopo il malore, subito da Rosetta Piazza, la protesta continua con Fabrizio Licitra, fissato per il prossimo sabato un consiglio comunale aperto. A Ragusa riprendono gli appuntamenti rivolti agli over 65 anni per la promozione dei corretti stili di vita. Il progetto è organizzato dall'ASP in sinergia con le associazioni di volontariato e del privato sociale. Ben trovati con l'informazione di Canale 74. Continuano le polemiche sull'avvertenza Coppa Ragusa. A rischio 83 posti di lavoro, la CGL dura nei confronti dell'azienda. Per il PD la politica non deve sostituirsi ai sindacati. Vediamo. A Ragusa tiene banco l'avvertenza Coppa Sicilia con il rischio di 83 licenziamenti solo nel capolucco ebleo. Sulla difficile situazione che stanno attraversando i dipendenti dei punti vendita della Coppa interviene anche il segretario generale della Filcams CGL di Ragusa, Salvatore Tavolino, che critica duramente l'azienda. Da tempo, afferma Tavolino, come organizzazione sindacale chiedevamo un tavolo che ponesse a centro un piano di rilancio industriale. Invece Coppa Sicilia si è limitata ad applicare piane di flessibilità senza senso e che hanno messo ancora di più in difficoltà l'organizzazione del lavoro già troppo ridimensionato. Mai abbiamo nascosto le criticità che attraversano i punti vendita, continua Salvatore Tavolino, ma abbiamo chiesto un'inversione di tendenza anche rispetto ai piani commerciali, ma la risposta è stata quella di presentare nel subero di 273 lavoratori. Dietro quella parola ai suberi ci sono lavoratori, mamme, famiglie, che hanno costruito progetti, sogni che oggi sono spezzati. Non può Coppa Sicilia o Scissane come se niente forse, lasciando centinaia di lavoratori senza occupazione. Nei prossimi giorni, spiega ancora il segretario CGL, saremmo impegnati ad avviare trattative su diversi fronti. Aspichiamo, conclude il segretario generale della Filcams CGL di Ragusa, che Coppa voglia davvero porsi l'obiettivo di rilanciare il comparto e di ravvedersi circa la chiusura di alcuni punti vendita. Sulla vicenda è intervenuto anche il PD ragusano, con un comunicato a firma dei consiglieri Dasta e Chiaula. Non crediamo, scrive Dasta, che possa essere un tavolo pluritematico sulla crisi a salvare i posti di lavoro della nostra città. Rischieremo di sovrapporci ai sindacati. Secondo l'esponente Demi, deve essere l'amministrazione comunale ad intestarsi autonomamente l'attivazione di un percorso teso, a chiedere spiegazioni, conto e ragione, a Coppa Sicilia circa la presumibile chiusura dell'Ipercop e la potenziale perdita di lavoro in carico a 83 persone. In linea di principio, scrivono ancora i consiglieri, siamo d'accordo con quanto sostenuto da due rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Agosto e Stevanato, che hanno sollecitato l'immediata confocazione di un tavolo di crisi che affronti questa e altre emergenze occupazionali della città. Ma non possiamo fare a meno di valutare che ancora una volta le scelte di ordine pratico adottato dai grillini sono tutt'altro che efficaci e cozzano con quelle che dovrebbero essere reali provvedimenti da assumere. Da parte di un ente locale, per attivare un dialogo con la controparte, fermo restando che il Palazzo dell'Aquila, lo ribadiamo, non può sostituirsi al sindacato. Venerdì alle 17 all'auditorium Santa Teresa in via delle Suore 2 a Ragusa Ibla si terrà il convegno organizzato dalla CGL dal tema Gli uomini non piangono le gabbie dell'identità di genere. I lavori saranno introdotti da Francesco Maltese, segretario generale della FIOM CGL di Ragusa e moderati da Valeria Firvinceli, delegata alle politiche di genere della CGL di Ragusa. Interverranno inoltre Peppe Scifo, segretario generale della CGL Ragusa e Michela Sfera, segretaria nazionale FIOM CGL. I lavori continueranno con gli interventi di Francesco Seminare, Amario Pulizzi e Pippo Consoli dell'associazione Noi Uomini a Palermo contro la violenza sulle donne e quello di Serena Maiorana, autrice del libro Quello che resta, storia di Stefania Noce. Daranno il loro contributo Rosi Scollo, dirigente FIOM CGL e Mim Margurio, segretaria CGL Sicilia. E sulla situazione economica del Comune di Modica non può calare il silenzio, ma bisogna rimanere sempre vigili e pronti ad ogni possibilità. A sostenerlo il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Garaffa. Sentiamo. Sulla situazione economica del Comune di Modica non può calare il silenzio, ma bisogna rimanere sempre vigili e pronti ad ogni possibilità. Di questo ne è convinto il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Garaffa, che spedisce al mettente l'accusa di provocare falso allarmismo avanzato dai consiglieri di maggioranza, perché Garaffa non si può abbassare la guardia su un tema così delicato. Nessun allarmismo, cioè io credo molto nella democrazia, io credo molto nella trasparenza. Non è possibile che ci si nasconda dietro la questione legata ad un eventuale falso allarmismo. E poi ci sono evidenze. La Corte dei Conti ha inviato alla Procura della Corte dei Conti, come dicevo prima, alla Procura della Repubblica queste delibere. Quindi chiede indagini, accertamenti. Già questo a me preoccupa moltissimo, essendo la seconda carica del Comune, essendo il Presidente del Consiglio, avendo la responsabilità, perché è un atto che è di esclusiva competenza del Consiglio, ma di fatto, sta di fatto, che il Consiglio non ha avuto la possibilità di incidere in questo atto, o poi, per carità, legittimamente la maggioranza ha votato, ha votato a favore di tutta una serie di interventi in bilancio, in consuntivo, con la presentazione del piano di riequilibrio, con questa rimodulazione. Voglio dire, si è assunta le proprie responsabilità, però sta di fatto che la città sta rischiando molto. Non si può nascondere. L'auspicio è che la rimodulazione del piano di riequilibrio possa essere approvata dalla Corte dei Conti. Tuttavia, occorre anche dire che in questo ultimo caso, poi sta all'ente adempere le misure inserite nello stesso piano, misure che poi vanno monitorate e analizzate periodicamente, perché la pratica sia conseguenziale a quanto scritto dall'ente. Il rischio c'è sempre, e ci sarà ancora. Il rischio è tanto più alto in quanto la Corte dei Conti ha denunciato in maniera chiara, inequivocabile, non c'è possibilità di letture multiple. Ha denunciato il fatto che il Comune non ha fatto alcun passo avanti, anzi, al contrario. Quando si parla di anomalie gestionali, non lo si dice a caso o in via generale. Si affronta, la Corte affronta, punto per punto, evidenziando le anomalie, evidenziando che le giustificazioni che sono state presentate dal Sindaco non li ritiene valide, non li ritiene abbastanza convincenti. Insomma, ora che il piano è al vaglio della Corte dei Conti, non si può stare con le mani in mano, in attesa del risponso occorre prepararsi a tutte le possibilità. A Pozzallo i carabinieri hanno arrestato un minorenne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato nella sua stanza uno zaino con 250 grammi di droga. Nella giornata di sabato scorso i carabinieri della stazione di Pozzallo e di Marina di Modica, nell'ambito di un servizio antidroga eseguito sul territorio di competenza, in particolare nei pressi dei lughi maggiormente frequentati e punto di ritrovo dei giovani dove sono state effettuate diverse perquisizioni, hanno tratto in arresto un giovane di 17 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano posto sotto osservazione la casa del minorenne, dove si registrava un viavai sospetto di giovani. Quando hanno preceduto alla perquisizione, i carabinieri hanno trovato, ben nascosto nella sua camera da letto, uno zaino con all'interno un involucro contenente circa 230 grammi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed alcune banconote di piccolo taglio per un totale di 100 euro, verosimilmente provento dell'attività di spaccio. A questo punto, accertate le responsabilità del minorenne, i militari lo hanno condotto in caserma e lo hanno dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato tradotto presso il centro di prima accoglienza per i minori di Catania, come disposto dal sostituto procuratore di turno presso il Tribunale dei minorenni e Tinneo. Lo stupefacente è stato sequestrato dai carabinieri e sarà successivamente inviato al laboratorio di analisi dell'ASPE di Ragusa per i risultati qualitativi e quantitativi, al fine di stabilirne con precisione le dosi e i guadagni che si sarebbero potuti ricavare dall'attività di spaccio. L'Agenzia delle Entrate di Ragusa avrebbe pronte migliaia di comunicazioni che saranno a breve consegnate per i proprietari di immobili abusivi che risultino trasparenti alla tassazione. L'Iparino è in testa alla classifica col maggior numero di edifici abusivi mentre Pozzallo risulta il comune più meritevole. In arrivo anche sostanziose sanzioni. Vediamo. Sarebbero circa 7.000 i fabbricati nel territorio ragusano che non risultano dichiarati dai proprietari e che sarebbero quindi totalmente invisibili per il fisco sfuggendo a qualsiasi forma di tassazione. È un fenomeno che caratterizza tutto il territorio ebleo in modo trasversale, piuttosto uniforme, dai comuni montani a quelli marinari, facendo emergere costruzioni che finora sono sfuggiti ad ogni controllo, nel più totale abusivismo. I dati dimostrerebbero che il fenomeno presenta dei picchi di maggiore abusivismo nelle zone a vocazione più agricola e turistica, dove ovviamente il territorio è anche più vasto e difficilmente controllabile, soprattutto nel primo caso, almeno in passato. Le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate sono pronte e saranno recapitate a breve perché tutto questo settore sia messo a regime. L'elenco dei fabbricati, definiti fantasmi, è stato suddiviso per comune, dimostrando quanto sostenuto. Infatti, 4.576 mobili sono stati identificati nel territorio di Vittoria, che risulta quindi in testa a questa classifica. Segue il capoluogo con oltre 3.000 edifici e poi Modica, che sfiora le 3.000 unità. Anche a Cate, a fronte del limitato numero di abitanti, fa registrare un alto indice con 1.050 edifici rurali non censiti. Chiaramonte, 1.276. Comiso, 1.144. Monte Rosso, 404. Santa Croce, 289. Scicli, 2.060. I due comuni Iblei, che risulterebbero più in regola, sono Giarratana, con 178 immobili non censiti e soprattutto Pozzallo, con una popolazione di 18.000 abitanti, con solo 130 edifici abusivi, risultando dunque il più meritevole. Entro l'anno, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che procederà con l'indagine a tappeto e notificherà successivamente alla contestazione per mancata dichiarazione. L'ammenda prevista va da oltre 1.000 euro a 4.264 euro, oltre gli interessi maturati. I proprietari avranno ancora tempo per mettersi in regola in modo spontaneo e in quel caso l'ammenda prevista è di soli 172 euro. Per quanti invece utilizzano il fabbricato con la conduzione di un'azienda agricola, l'Agenzia procederà alla contestazione per la mancata comunicazione della variazione di destinazione. I gruppi politici di maggioranza Scicli promuovono un incontro giovedì prossimo per discutere del futuro del Busacca. L'appuntamento è alle 19.00 e nel cortile dell'Opera Pia Carpintieri. Interverranno il manager dell'ASP7, Maurizio Ricolle, l'onorevole Pippo Di Giacomo, il sindaco di Scicli, Enzo Giannone. Un confronto pubblico giovedì a Scicli per discutere del presente e del futuro del Busacca. L'ospedale è stato in questi mesi al centro di diverse polemiche e l'argomento è stato trattato più volte in Consiglio Comunale. La senatrice Venera Padua, che in prima linea si è battuta per la sorte del nosocomio sciclitano, negli ultimi giorni aveva denunciato i ritardi dell'apertura del padiglione che dovrebbe ospitare la neuro-riabilitazione. Le rassicurazioni però sono arrivate dall'azienda sanitaria che ha confermato che i tempi di consegna saranno rispettati. Per promuovere il dibattito sul tema, Scicli Bene Comune, Start Scicli, Cittadini per Scicli e Città Aperta, come coalizione di movimenti politici che oggi sono al governo della città, hanno quindi organizzato un incontro pubblico in cui tutte le forze politiche e sociali, ma anche tutti i singoli cittadini, potranno esprimere la loro opinione e interloquire con le istituzioni. L'incontro si terrà giovedì a partire dalle 19 nel cortile dell'Opera Pia Carpintieri e saranno presenti l'onorevole Pippo Di Giacomo in qualità di presidente della Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana che ha presieduto l'approvazione del nuovo piano sanitario regionale, Maurizio Ricò, direttore dell'ASP7 di Ragusa, che tale piano deve applicare, e il sindaco di Scicli, Enzo Giannone. I cittadini sono dunque invitati a partecipare per un momento di democrazia e politica su un bene come l'ospedale che riguarda tutti da vicino. Da sabato scorso Fabrizio Licitra, agricoltore vittoriesi aderente al movimento riscatto, ha preso il posto di Rosetta Piazza nello sciopero della fame portato avanti a Vittoria contro le aste giudiziarie. La donna aveva accusato un malore giovedì scorso, ora sta bene e lancia appelli per chiedere fatti concreti. A Vittoria la protesta prosegue ad oltranza, non intendono fare un passo indietro gli aderenti del movimento riscatto che da settimane portano avanti lo sciopero della fame che ha fatto seguito a mesi di protesta contro le aste giudiziarie, un fenomeno largamente diffuso in territorio Iparino, tanto da aver fatto registrare dati allarmanti sul trend di crescita del fenomeno. La protesta dunque non si ferma e da sabato Fabrizio Licitra ha preso il posto di Rosetta Piazza. La donna infatti giovedì scorso aveva accusato un malore ed era svenuta facendo seriamente preoccupare i sanitari per le sue condizioni di salute. La donna era stata trasportata in ospedale dove era stata ricoverata. Dopo due giorni è stata sottoposta a una terapia per riprendere la normalità e ha ripreso ad alimentarsi gradualmente. La donna si è fermata dopo 15 giorni di sciopero ad oltranza. Un'altra donna che aveva iniziato con lei, Paola Donzelli, aveva interrotto dopo solo qualche giorno lo sciopero della fame a causa di problemi di salute. Il suo posto non è comunque rimasto vuoto. Immediatamente il posto è stato preso da Fabrizio Licitra, agricoltore di Vittoria, anch'esso iscritto al movimento riscatto. Rosetta Piazza ora sta meglio ma continua a lanciare appelli alla comunità Iparina e Iblea e soprattutto alle istituzioni e alla politica chiedendo loro che il suo sacrificio e quello dei prossimi del movimento che proseguiranno lo sciopero della fame non venga vanificato. Le dimostrazioni di solidarietà non sono mancate da parte di tanti ma ora i manifestanti chiedono che alle parole seguano fatti concreti. Intanto il presidente del Consiglio Comunale di Vittoria, Andrea Nicosia, unitamente a tutta la Giunta ha organizzato un Consiglio Comunale Aperto che si terrà in Piazza Gramsci il 10 giugno con la presenza della Deputazione regionale e nazionale. Ci auspichiamo una presenza massiccia di sindaci all'evento, affermano i rappresentanti di Movimento Riscatto. Comunichiamo che continueremo l'auta d'oltranza attendendo di essere convocati con nuenza dalle commissioni agricoltura, giustizia e antimafia. Le sole promesse questa volta non basteranno, pretendiamo i fatti. Scadono venerdì prossimo a Comiso i termini per presentare domanda di rottamazione dei tributi per il Vice Sindaco. Si tratta di uno strumento importante in favore dei cittadini. A Comiso scriveranno i 9 giugno i prossimi termini per la presentazione delle stanze per la definizione agevolata del pagamento dei tributi arretrati. Sul proposta dell'Amministrazione Comunale, infatti, nella seduta dello scorso 29 maggio, il Consiglio Comunale ha esteso i termini per consentire di ricorrere allo strumento che elimina le sanzioni previste a chi non ha saldato in tempo quanto dovuto. Entro il 14 luglio, l'ente comunicherà a chi farà richiesta di rottamazione gli importi da pagare e le date delle rate previste. Questo provvedimento, spiega Gaetano Gaglio, Vice Sindaco con Delega a Bilancio, completa le misure in favore dei cittadini contenute nel bilancio previsionale 2017 deliberato lo scorso 18 maggio con interventi a sostegno dello sviluppo economico delle imprese del turismo con segnali importanti a sostegno della cultura e dello sport con il contenimento della spesa corrente e con il rilancio delle opere pubbliche. A rilancio economico ed occupazionale che sarà assicurato dalle misure di sostegno delle attività produttive dalle opere pubbliche, in previsione per orte 3 milioni di euro, spiega ancora Gaetano, siamo riusciti ad affiancare, attraverso una tenace e paziente opera di rifunzionalizzazione del servizio e grazie ai grandi successi della raccolta differenziata, una riduzione del 10% medio dei tributi sui rifiuti. Secondo Gaetano, non soltanto i comisani beneficeranno finalmente dei segnali concreti al primo anno di azione post dissesto finanziario, ma registreranno anche un alleggerimento del carico fiscale. Oltre alla diminuzione generalizzata delle tariffe, infatti continua il vice sindaco, abbiamo ripristinato come promesso le agevolazioni introdotte e congelate lo scorso anno per effetto della normativa sulla Tari. Il Dipartimento Famiglia della Regione Sicilia sta avviando verifiche incrociate per scuovare possibili falsi invalidi e garantire il sostegno economico previsto per l'assistenza ai disabili gravissimi solo per chi ne ha realmente bisogno. Dalla Regione arriva l'annuncio di una lotta serrata per scoprire i cosiddetti falsi invalidi. Vita dura quindi per tutti quelli che negli anni, con escamotaggio, producendo false documentazioni, hanno attestato disabilità gravissime senza esserne realmente affetti. Il Dipartimento Famiglia sta avviando verifiche incrociate tra i dati IMSS, ISTA, TASP e ANCI l'Associazione dei Comuni. A spiegarlo è l'assessore regionale alla famiglia Carmenzita Mangano che ha sottolineato di aver attivato un'intesa con diversi enti dando il via alle procedure per la ricerca di dati e casi. Lo scopo dell'assessorato è quello di far emergere tutti i nomi e di conseguenza anche numeri precisi e reali di quanti sono i siciliani con disabilità gravi. Oggi la riunione della consulta regionale per i disabili è convocata dall'assessore. Al centro del vertice è anche il nuovo osservatorio sulle disabilità che avrà il compito di coordinare la raccolta dei dati. Dopo le proteste dei tanti disabili siciliani la regione quindi sembra mantenere le promesse prese in prima persona dal presidente Rosario Crocetta. Dopo essere riusciti a trovare la copertura in finanziaria il mese scorso si era aperto il via per richiedere gli aiuti. Anche chi non è iscritto negli elenchi di Aspe Comuni potrà ottenere i 1500 euro mensili infatti presentando regolare domanda. Proseguono gli appuntamenti promossi dall'Aspe e dalla rete ai petali del cuore per promuovere corretti stili di vita tra gli over 65 con incontri e interventi che mirano a sensibilizzare più anziani sui temi della prevenzione e la salute e il benessere. Riprendono gli appuntamenti rivolti agli over 65 anni per la promozione dei corretti stili di vita. Il progetto di promozione alla salute è stato messo in atto da Vincenzo Trapani responsabile progettuale direttore della UOS educazione alla salute dell'ASP di Ragusa in sinergia con le associazioni di volontariato e del privato sociale che fanno parte della rete i petali del cuore con la quale l'azienda sanitaria di Ragusa ha sottoscritto un protocollo di intesa. Il prossimo appuntamento alla parrocchia San Giuseppe Artigiano è previsto per oggi pomeriggio. Tanti gli argomenti e gli interventi grazie all'AIA di Ragusa si parlerà della gestione del paziente con diabete e del ruolo dell'associazione nel sostegno alle persone affette da questa patologia. Ci sarà poi la possibilità di effettuare lo screening glicemico. Tra i temi trattati anche l'importanza della prevenzione la motivazione alla cura del sé e la potenzialità di vita nella terza età. Poi la sicurezza domestica e l'importanza delle passeggiate della salute. Domani è poi in programma la passeggiata la salute viene passeggiando. Anche questa iniziativa rientra nella linea progettuale del piano sanitario nazionale recepito dall'ASP di Ragusa ed è la prima di una serie di attività che coinvolgeranno gli over 65 residenti in territorio ebleo. La passeggiata gratuita vuole essere corredo delle tante attività legate alla motivazione personale alla cura di sé e alla prevenzione al fine di preservare e migliorare lo stato di salute. L'associazione City Social di Sebastiano Pollina gruppo City Walk Tour e l'associazione Ci Siamo rappresentata da Maria Grazia Gulino guideranno i partecipanti dalla chiesa Sacra Famiglia in Viarchimede tra le vie di Ragusa e del centro storico fino alla chiesa di Santa Lucia dove tutti potranno ascoltare la storia di Ragusa Ibla un percorso semplice di tre chilometri per stare insieme scattare fotografie chiacchierare ascoltare letture tratte dal libro di Mimì Arezzo. Potrebbe essere presto fruibile visitabile l'ipogeo di Calaforno nel territorio di Giarratana grazie ad un finanziamento con 60 mila euro di fondi Ex-Insicem destinati dall'ex provincia regionale di Ragusa oggi libero consorzio ieri una passeggiata con oltre un centinaio di persone ha mostrato i risultati portati avanti con la prima tranche di finanziamenti vediamo. Sarebbero in arrivo 60 mila euro provenienti dai fondi Ex-Insicem per la ex provincia regionale di Ragusa oggi libero consorzio comunale che avrebbe destinato per l'esecuzione dei lavori di valorizzazione e fruizione dell'ipogeo di Calaforno in territorio di Giarratana l'ipogeo preistorico potrebbe dunque diventare presto fruibile è il secondo importante step di un iter che dovrebbe concludersi con la piena fruibilità del sito archeologico e quindi turistico martedì scorso nella sede dell'ufficio tecnico comunale di Giarratana sono stati affidati i lavori che prevedono la rimessa in uso del primitivo ingresso e l'illuminazione del percorso con impianto a led i fondi in arrivo fanno parte del progetto destinato alla zona montana Iblea con i comuni di Giarratana Chiara Montegulfi e Monte Rosso Almo nell'ambito di un accordo di programma fra ex azienda forestale sovrintendenza di Ragusa libero consorzio di Ragusa e comuni montani i lavori eseguiti nel primo step che si è concluso nelle settimane scorse sono stati mostrati per la prima volta ieri durante una passeggiata a cui hanno partecipato un centinaio di persone insieme alla sovrintendenza ai beni culturali di Ragusa oltre che al primo cittadino di Giarratana Bartolo Giacquinta questa è la giornata che inaugura un pacchetto turistico il dottore Scerra ha detto del valore dell'ipogeo preistorico di Calaforno il suo inserimento all'interno di un pacchetto organizzato di fruizione turistica come avviene a partire da oggi è sicuramente un elemento che promuove lo sviluppo economico del territorio sono particolarmente contento di questa prima giornata organizzata da parte di un'associazione locale che si muove nel settore turistico in raccordo con operatori della provincia sottolineare che questo è l'ipogeo di Calaforno il parco di Calaforno è un bene dei comuni montani che può servire ad aiutare lo sviluppo delle nostre comunità abbiamo da poco finito l'ennesima attività di ricerca all'interno con l'ausilio dell'Università di Catania del professor Pietro Militello perché come ho già detto più volte stiamo lavorando su due fronti da un lato con i fondi ex insicem e ora riprenderemo la seconda campagna di scavo proprio con i fondi ex insicem che qualche anno fa abbiamo grazie all'accordo tra i comuni montani dirottato per la fruizione e la valorizzazione di questo straordinario monumento e poi dall'altro con una convenzione con l'Università di Catania e col professor Pietro Militello con la cattedra di preistoria dell'Università di Catania stiamo lavorando all'interno e quindi due percorsi diversi di ricerca ma convergenti allo stesso tempo perché sostanzialmente è la stessa squadra che lavora sia all'esterno che all'interno circa 700 gli atleti e le atlete che tra sabato e domenica si sono sfidati sui tatami di Riccione nel campionato italiano cadetti under 17 di judo tra questi anche allievi della judo club Koizumi Scicli del maestro Maurizio Pelligra e della mifune judo di modica del maestro Daniele Alfano lo sciclitano Filippo Ciccerella di 16 anni della Koizumi è salito sul gradino più alto del podio conquistando così il titolo di campione italiano 60 kg categoria cadetti ottima anche la prestazione dell'allievo della Koizumi Giovanni Donzella categoria 60 kg che si è classificato settimo su 74 partecipanti buone prestazioni anche per Thomas Nicotra e Vincenzo Portelli Bene questa era l'ultima notizia il nostro telegiornale termina qui o vi rimando alla nostra edizione della sera delle 19.45 grazie per averci seguito e arrivederci a presto 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 Grazie per la visione!